Io che spieghiamo questo, ma lo sai quante cose ho fatto? Sembrava dire che ho fatto oggi, perché mannaggia mi spiega. Prendeva il pulsante. Hai detto un impieglio di cose. Ho detto un impieglio di cose. Ho detto un impieglio di cose a vuoto. La vita solo praticamente. La vita solo, è stato sbagliato. Prendeva la massa. L'arfezza della pulizia di gioco. L'umidità, la temperatura. Hai parlato tu e la radio da soli. Forse l'avrà sentito quello che sta chiedendo. Ho detto, ho detto, a te hai fatto una cavolata a tardi il tuo radio. Infatti ho fatto una cavolata a tardi, a subito l'hanno fatto. L'ambaggia la miseria. Certo, se c'è alcuno, c'è le stesse vecchie, non ce l'hai sti posti. Vai su internet, dai, i teleporti, guarda, costano più.